Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi ovviamente siamo qui per risolvere il problema Valve Anti-Cheat se io adesso vado ad avviare la partita esce Valve Anti-Cheat e come puoi vedere questo errore va risolto direttamente nella sua cartella di Counter Strike 2 non ci vuole proprio niente, un tutorial di 2 minuti e ti aiuterò a risolvere questo errore quindi ovviamente io ho risolto chiudendo il gioco entrando così nella sua cartella proprietà, file installati, sfoglia i file locali vado nella cartella game, bin, win64, cs2 ci clicco sopra, proprietà vado sulla compatibilità elimino così, esegui come amministratore, disabilito ottimizzazione schermo intero i dpi elevati li tolgo e poi vado su firme digitali clicco qua sopra e comincio a installare il certificato installo così il certificato il primo, questo qua fate come sto facendo io e facciamo fine concludiamo importazione completata facciamo ok ok applica chiudiamo tutto e non mi resta che avviare il gioco e vedere se va una partita ok 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 andiamo su gioca leggera matchmaking e vediamo se va la partita via ok il messaggio non ce lo da la partita sta andando la tua partita è pronta se questo video ti è stato utilissimo iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo tutorial ciao